Allora, il libro cartaceo lo definirei giallo, femminile e ruvido. Il testo di Nina Letto è sperimentale, divertente e commovente perché ho pianto tantissimo leggendolo. Mi chiamo Nina. Avevo appuntamento alle tre per una lezione di prova con me. Sono Piuma. La cosa che è nata prima del libro è stata l'abitacolo della macchina. Quindi mi piaceva l'idea che in un'intimità così forte Nina si affacciasse sul mondo. Nell'abitacolo di una macchina si sentono gli odori ma soprattutto si sentono le conversazioni, si sente la radio, si sentono gli audiolibri. Vediamo che cosa potrebbe ascoltare Nina. Beh, Nina sicuramente ascolterebbe i gialli, sicuramente. Potrebbe ascoltare Simenon. Poi potrebbe ascoltare, beh, per esempio il mio primo audiolibro che io ho amato tantissimo. Stoner letto da Sergio Rubini ed è stato un colpo di fulmine sia letterario ma sia proprio di mezzo. E da lì non ho mai più lasciato gli audiolibri. Quindi credo che Nina con questa sua sensibilità ruvida avrebbe molto apprezzato Stoner anche perché lo legge Rubini che è pugliese come il papà di Nina con questo accento meraviglioso. Io ho un marito pugliese e quindi sono sensibilissima alla cadenza, sono sensibilissima proprio a quell'essenza della pugliesità che spero di aver restituito a Nicola che è il papà di Nina. E ho fatto anche una cosa molto ardita nell'audiolibro perché ho dato a Nicola una cadenza pugliese. E' stato veramente un azzardo. Io mi sono divertita come una pazza, non so la resa, però insomma ci ho provato, è stato un esperimento. Tua madre non capisce, sai com'è. Sta sempre a fare qualche cosa, la cucina, i centrini per la chiesa, pulire. Che sai com'è fissata per la pulizia? Non si ferma mai, non ascolta. Che sai com'è.